Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 29 marzo 2020, domenica triste come tutte le domeniche che non sono a piedi, che sono domeniche in cui siamo reclusi e agli arresti domiciliari in casa. Toc toc! C'è qualcuno che ancora non se ne è reso conto, no? Perché quando noi si parlava degli arresti domiciliari sembrava una cosa mostruosa. Siamo agli arresti domiciliari per un'emergenza sanitaria, ma la siamo. Nel frattempo il Presidente del Consiglio, e questi sono i temi fondamentali della giornata, dice e fa qualche cosa per l'emergenza cibo. Io vorrei ricordare che circa 20 giorni che dico che accanto all'emergenza sanitaria bisogna affrontare l'emergenza economica e che non dobbiamo farci trovare sull'emergenza economica tanto impreparati quanto sull'emergenza sanitaria. Ma comunque ne riparleremo in seguito perché le vere macerie arriveranno da là nei prossimi giorni, oltre a quelle ovviamente della lista dei morti che anche questa oggi è aumentata. Cibo e buoni alle famiglie, è il titolo del Corriere della Sera, perché sono in tutto 4,3 miliardi, ma i famosi buoni alle famiglie sarebbero 400 milioni di buoni spesa. Il più cattivo, se possiamo metterlo così, come spesso avviene perché in questo giornale unico del virus italiano, scusatemi, a distinguere c'è sempre, mi sembra, il tempo di Franco Becchis, qualche volta anche un po' libero, beh il tempo ha fatto i calcoli su quanto spetterebbe a Roma di questi buoni pasto per i cittadini romani 200 mila euro, probabilmente quanto la Raggi paga il SUS, il sistema unico di segnalamento per gli assembramenti. Adesso dico a caso, non so quanto possa costarli. Comunque a Roma, dice Becchis, arriveranno buoni per 200 mila euro, secondo i calcoli del tempo, il che vuol dire che sono un buono da 100 euro per 2 mila famiglie. Dice Becchis, ci facciamo poco. Mentre c'è una critica di questo tipo da parte del tempo, il giornale unico è tutto contento di questi soldi che arrivano. Devo dire che anche 100 euro sono meglio di zero. Ovviamente bisogna capire se servono a qualche cosa e per quanto tempo questi soldi li danno. Ma il giornale unico del virus oggi che cosa ci fa? Pagina 3, 3 di Repubblica. Nel frattempo, mentre abbiamo fatto una manovra da 25 miliardi, una manovra da 50 miliardi e nelle tasche di italiani è arrivato zero, e da lunedì, dalla prossima settimana vedremo e tra poco ne parleremo quanto arriveranno le tasche degli autonomi, la cosa straordinaria è che Repubblica lancia la palla ancora più avanti. Cioè l'Avelina di Casalino, che è un genio totale, che riesce a convincere tutti quanti i giornali della montata di questa procedura, beh insomma che cosa dice? Sta arrivando il reddito di emergenza, quindi saranno allargati 600 euro e saranno messi quanto? Tra i 6 e i 10 miliardi di euro, anche per il lavoro grigio, anche per le colf, anche per il lavoro nero, anche per tutti quanti. Allora io toc toc, lo faccio con tranquillità. Mentre Repubblica pagina 3 ci spiega che arrivano tra i 6 e i 10 miliardi per il lavoro grigio, per le colf, per il lavoro nero, io vado sullo stesso tema ma sul Sole 24 Ore e sapete cosa mi scrive il Sole 24 Ore? Che arriveranno forse anche dei soldini per i professionisti, cioè gli iscritti agli architetti, avvocati e Nasarco, cioè negli autonomi italiani non ci sono gli agenti di commercio che secondo voi oggi stanno facendo i miliardi, reddito zero, e loro non hanno i 600 euro, non hanno i 600 euro i giovani architetti, non hanno i 600 euro i cinquantenni disoccupati ingegneri o iscritti o giornalisti, non ce l'avranno, però lo Stato che cosa fa? Oggi ci spiega che dà 200 milioni per integrare il reddito di questi autonomi che sono fuori dai 600 euro e lì non Bekis ma anche il Tempo ha fatto i calcoli, sapete quanti assegni sono? 330 mila assegni, cioè se tu sei iscritto a un ordine e o sei un agente di commercio, beh insomma il numero massimo di aiuti ai 600 euro saranno per 330 mila persone, mentre Repubblica ci racconta questo mirabolante reddito di emergenza, l'unica cosa scritta e peraltro che non è arrivata, ci calcola il Sole 24 Ore e arriverà a 330 mila autonomi iscritti alle casse professionali. Vi segnalo che soltanto gli agenti di commercio sono 250 mila, arriveranno 300 mila assegni, 250 mila che oggi sono al reddito zero per il commercio oggi non c'è, è una cosa che mi fa impazzire, perché tra l'altro sono le procedure, sono le procedure, perché ve le devo raccontare oggi sul Sole 24 Ore ci hanno spiegato che questa mancia da 600 euro per i professionisti arriverà soltanto fino a coloro che hanno 50 mila euro di reddito, ci sta, diciamo i più ricchi per ora non glielo danno, come se il ricco fosse uno che ha 60 mila euro e una famiglia da mantenere, ma comunque hanno fatto una scelta fino a 50 mila euro, ma coloro che hanno tra 35 mila e 50 mila euro di reddito nel 2019 devono dimostrare che nel primo trimestre del 2020 il loro reddito è diminuito del 33%, io li fucilerei, io questi burocrati li fucilerei, perché a differenza dei burocrati che ogni mese si prendono il loro stipendio pagato da noi, da noi, gli autonomi forse i primi tre mesi dell'anno erano pure svangati, ma sono i prossimi tre che non svangano e ci arriva un bambino piccolo così, non ci arrivano i burocrati ma ci arriva un bambino piccolo così, l'agente di commercio per i prossimi tre mesi farà reddito zero e secondo questa merda di disposizione non avrà neanche la mancia dei 600 euro, sempre che riesca a prenderla perché con 330 mila assegni ed essendo almeno un milione questi professionisti iscritti alle casse sarà chi arriva prima, ma è straordinario, finalmente una buona notizia dopo le grandi stupidaggini fatte da questi decreti che sono usciti dal 16 marzo ancora non hanno dato un euro, pare che abbiano cambiato idea, lo leggo sul sole 24 ore e che la cassa integrazione si possa avere non con il consenso del sindacato, oh grazie al cielo il barista con tre dipendenti deve avere il consenso del sindacato che magari non c'è in azienda e senza quel consenso non può avere la cassa integrazione che, apro parentesi, chiudo parentesi, spesso deve anticipare lui e non l'Inps, cioè una specie di roba assurda, beh il consenso potrebbe essere soltanto secondo il sole 24 ore di oggi una comunicazione, arrivano più soldi, ecco come prenderli, è il titolo di Repubblica, ragazzi ma perché, ma perché il giornale unico del virus è diventato così contiano? Fra poco ve lo racconto, no anzi ve lo racconto fra poco perché il secondo tema della giornata sono le dichiarazioni di Ursula, beh Ursula van der Leyen, la banonessa che guida la presidenza della Commissione Europea, dice che gli euro bond sono solo uno slogan e non stiamo lavorando a questo, dice il Presidente della Commissione Europea, beh insomma la frase ha il vantaggio di essere netta ma è la frase che vedrete che farà sui mercati lunedì lo stesso effetto di quella sciagurata frase della Lagarde su interventi della BCE, poi magari, poi la BCE sta intervenendo pesantemente, poi la Commissione Europea cambierà senso, però vi dà il peso per il quale noi ci siamo fatti ingannare da Ursula che parla italiano, vi siamo vicini, vicini una ceppa, perché quando si tratta di fare l'euro bond, lei che vi racconta, cioè l'euro bond è certamente un regalo ai paesi più deboli, ma i paesi più deboli questo regalo se lo portano a casa, come tutti quanti voi avete visto i tedeschi si sono portati a casa dal dimezzamento del debito, ma il debito tedesco se lo sono fatti perché hanno fatto la guerra, mentre l'Italia, la Spagna e la Francia sono nelle peste per una situazione che non deriva necessariamente proprio dall'Italia o dalla Spagna, anche se qualche colpa ce l'abbiamo, insomma, quando vedi che in Italia ci sono 10.000 morti e in Germania ce ne sono 1.000, poche centinaia e qualche dubbio se lo fa, ma rimaniamo a Ursula, questa signora, come dice giustamente oggi Galluzzo, che in realtà dovrebbe fare la cronaca, ma gli sfugge anche un'opinione nel suo pezzo del Corriere della Sera, beh non sembra molto super partes come dovrebbe essere il Presidente di una Commissione Europea se dice che è solo uno slogan l'euro bond, tra l'altro Prodi, ex Presidente della Commissione Europea, soltanto due giorni fa sul messaggero diceva che erano necessari, quindi insomma il dibattito se non altro c'è, c'è una leggera smentita poi in serata della Commissione che dice che non è esclusa alcuna soluzione, ma parliamoci chiama, guardiamoci tutti negli occhi, sappiamo benissimo che cosa sta avvenendo, gentiloni, fantastico, oggi ci sono due cose che vi segnalo su questo, perché mentre Ursula tra altre cose dice che le riserve della Germania sono giustificate, cioè la Presidente della Commissione Europea dice che le riserve di un paese di cui lei è stata Ministro della Difesa sono giustificate, arriva il Conte Gentilone che è nella stessa circola della caccia della baronessa Ursula van der Leyen e che cosa dice? Beh, che colpa, dice mi fa ridere chi si lamenta della UE quando fino ad ora, tra chi lamenta le lentezze della UE, dice tra chi lamenta le lentezze della UE, in questa intervista alla stampa Gentiloni, tra chi si lamenta delle lentezze della UE c'è chi ha ostacolato la sua capacità di intervento, ma Gentiloni, toc toc! Caro Conte, Conte Gentiloni, non Presidente Conte, ma veramente pensi a quello che scrivi e pensi a quello che dici? Cioè veramente pensi che le lentezze delle UE siano colpa di Salvini? Ma veramente, o di Borghi o Bagnai? Ma guarda, ma qua siamo veramente... cioè tu sei il rappresentante massimo dell'eurocrazia con tanti altri dignitosissimi politici italiani e adesso il problema delle lentezze UE è anche un po' ascrivibile a chi se ne è lamentato della UE, o cioè quelli che si sono lamentati della UE dicendo che era un carrozzone, oggi in realtà attribuisce a loro la colpa del fatto che Ursula, Presidente della Commissione Europea, non voglia fare gli Eurobond, io la trovo una cosa straordinaria. E poi ragazzi ve la devo ricordare perché, vedete, ho un mito che si chiama Sergio Fabbrini perché io non saprei neanche chi è, ovviamente nessuno di noi sa chi è Sergio Fabbrini, lo sa bene il mio amico Marco Gervasoni che è stato sostanzialmente cacciato dalla LUIS per le sue idee euroscettiche, mettiamola così, che oggi diciamo che hanno anche qualche peso, proprio da questo Sergio Fabbrini che c'è una bella rubrica sul Sole 24 Ore e io sono appassionato di Sergio Fabbrini! Toc toc! Fabbrini, grande preside della LUIS che dice sempre delle cose intelligenti, oggi mi sono divorato il suo pezzo, e qual è il suo pezzo? Ve lo dico, il futuro dell'Europa viene adesso. Io lo so, fantastico! Ci sono le code alle edicole! C'è il SUS della raggi che dice che ci sono gli assembramenti alle edicole per leggere il pezzo di Fabbrini, il futuro dell'Europa viene deciso adesso! E si sorprende Fabbrini nel suo pezzo che la Germania non abbia questa solidarietà nei confronti degli altri paesi europei. Voi leggete Fabbrini e capite come questi stanno formando i nostri studenti alla LUIS, detta da LUIS. Bene, diciamo che ritorniamo anche sulla malattia in sé, 10.000 vittime, ma il giornale unico del virus ma è il record di pazienti guariti. E chi se ne frega? È evidente che è il record di pazienti guariti se sappiamo che l'80% delle persone se lo prende come me con 39 di febbre. Il problema non è il record dei pazienti guariti e ci arriva anche in questo caso non un virologo ma un logico e cioè che il problema non sono i pazienti guariti ma sono i morti che sono 10.000. Il paese che ha più morti al mondo è l'Italia. Insomma qualche domanda ce la dovremmo pur fare o no? E gli scienziati ci dicono oggi ancora una settimana per il picco. Io vi segnalo che quando andai in onda l'ultima volta, cioè il primo marzo, il 2 marzo, gli scienziati dicevano una settimana per il picco. Ora ritornerò in onda, spero, presto e gli scienziati dicono una settimana per il picco. Questo dice che una cosa che oggi Lenzi scrive straordinaria sul tempo e cioè che siamo, e l'aveva scritto anche i veneziani, che siamo in una dittatura sanitaria. Ma la dittatura sanitaria purtroppo è anche un po' confusa, mettiamola così, con gente che spara su Boris Johnson e che fino a poco tempo fa sottovalutava e oggi rivaluta. Insomma anche loro non è che hanno un'idea così precisa. Poi ritorneremo sul Lenzi. L'altra cosa fantastica è che Borrelli dice le nostre misure sono un modello. Il capo della protezione civile dice che le nostre misure sono un modello. Se voi ci credete, perfetto. Vedo questi, per esempio una delle nostre misure è questa unica al mondo, rassegna stampa, conferenza stampa fatta alle 18 in cui si fa Memento Mori con Borrelli che ci racconta le loro cose. Le regioni contro Arcuri, ormai la cosa è scoppiata per un motivo che vi fa venire il sangue al cervello, come il Decreto Cura Italia, che si chiama Decreto Cura Italia. Lo sapete qual è il problema? Il problema è che tutte le regioni, da De Luca a Emiliano, quindi Sinistra, PD a Fontana, al Mito e Fedriga del Friuli Venezia Giulia, sono furibondi perché hanno centralizzato gli acquisti di mascherine i dispositivi medici e non gli arriva nulla. Devono fare tutto da soli e gli stanno mettendo questi fenomeni di Arcuri, della protezione civile, i bastoni tra le ruote. Prima o poi un grande ragionamento sull'incapacità totale di Roma di gestire questa cosa dovremmo farla. Toc toc, travaglio! Sempre comprendere la Lombardia. Nel frattempo, vai a vedere il tuo adorato Arcuri e che cosa pensano i presidenti di tutte le regioni italiane sul fatto che la distribuzione è un disastro e che ora converrebbe affidarla all'esercito e ci siamo arrivati forse dopo in ritardo. Nel frattempo fa discutere la questione di Renzi che ha detto riapriamo prima o poi questo paese, cosa che io condivido al 100%. Sapete chi gli risponde? Rezza. Cioè all'Istituto Superiore della Sanità rispondono, cioè la dittatura dei medici. E che cosa dicono? Ma che riaprire? Toglietevi quella parola dalla testa per un po'. Oh! Tu sei un medico! Cioè, da una parte i medici, da una parte gli economisti, dall'altra parte i fisioterapisti e poi i politici. Questa è la democrazia. Sono i politici che decidono. Non è Rezza che decide. Non è neanche Renzi che ha il 2%, ma lui fa politica. Mentre tu sei un medico e continua a fare il medico se lo sai fare, come sono sicuro che lo sa fare benissimo Rezza. Però la politica, possono farla male, la fanno male obiettivamente, ma ha un altro ruolo. Quindi toglietevi della testa. Non lo può dire né lui, né quell'incredibile intervista oggi al prefetto di Milano, che dice la seguente cosa. Saremo severi nei controlli perché oggi il problema qual è? È quello dei vecchietti che vanno due volte a fare la spesa. Ragazzi, ma noi siamo in prigione. Caro prefetto, noi siamo in prigione. Lei ha 63 anni. Se lei avesse 75 anni e un po' di vita davanti a sé, 80 anni, un po' di vita davanti a sé, ma lei veramente capisce quello che sta dicendo? Ma lei veramente si rende conto che lei sta nel suo ufficio, che lavora e si è attivo e fa tante cose? Ma la gente è agli arresti domiciliari tutta l'Italia. Io sarò un marziano, ma se questi non capiscono che c'è un'Italia che ha gli arresti domiciliari e che fra dieci giorni non solo per il pane, ma uscirà perché non ce la fa più. Voi non avete proprio idea di che cosa sta succedendo. Carissimo, illustrissimo prefetto, il quale dice andiamo a fare controlli alle aziende perché non rispettano la chiusura totale. Nel frattempo io lo vedo oggi, in Lombardia, troppi chiedono le esenzioni perché vogliono lavorare. Abbiamo chiuso le aziende con i codici Ateco e giustamente il Presidente della Solombarda Bonometti dice che i codici Ateco rispondono a criteri del secolo scorso, oggi le filiere sono molto più complicate, ma i sindacati, cioè la CGL vuole chiudere tutte le imprese. Chiuso tutto. Chi paga i soldi? Chi paga le casse integrazioni, posto che l'Inps non le paga? Chi paga il prefetto? Chi paga Rezza dell'Istituto Superiore della Sanità? Quanto duriamo? Ragazzi i soldi non nascono, dobbiamo pagare un po' di più magari le persone che non hanno da mangiare, dobbiamo fare il reddito di emergenza, dobbiamo pagare il reddito di cittadinanza, dobbiamo pagare i tribunali, dobbiamo pagare la sanità perché la sanità... Tutta questa roba qua, se le aziende non funzionano, ma chi la paga? E poi continuate a dare torto a Renzi, il più duro, Sallusti, che dice fare i fenomeni con i polormoni degli altri. Invece difende Renzi decisamente Senaldi, due giornali di centrodestra che hanno posizioni diverse su Nerdi, la chiusura dell'Italia non può reggere così, cosa che io condivido al 100%. E vi ripeto, Renzi oggi, giustamente, sul tempo, dice ma Renzi ha avuto il merito di ribellarsi a questa dittatura sanitaria. Ma non si può dire perché qua siamo degli sciacalli se pensiamo che si debba riaprire l'Italia. Nel frattempo i sondaggi del Corriere della Sera vedono in grande crescita il governo, che è al 61%, Conte e governo, piacciono agli italiani, 56% e 61%, in crescita. Nel frattempo, però, dice Pagnoncelli, non avviene sui partiti perché la Lega resta al primo partito al 31% e Fratelli d'Italia al 13%, il PD al 20% e il Movimento 5 Stelle resta al 15%. Bisignani oggi sul tempo ve lo consiglio, ci dice che Conte sta preparando il suo partito e il suo partito nasce dalla Repubblica, dal Corriere, da Casalino, da Casaleggio, cioè c'è un'idea della stampa abbastanza uniformata, bastava leggere ieri i galli della loggia e quindi è pronto a fare il passo. Mentre il governo Draghi spiega un grillino doc spada fora, è un bluff! E poi per fortuna che Salvini non è al governo e non ha gestito questa crisi, dice il vecchio alleato di Salvini, io lo trovo fantastico. Quella crisi va affrontata dalla mia generazione e non da Draghi, cioè questa crisi, dice spada fora, va affrontata dalla sua generazione e non è andata quella da Gradi. Una preghiera che dovremo comunque tutti quanti fare. Comunque io vi dico, andatevele a vedere le mie vecchie zuppe, queste zuppe eccetera. Ragazzi, qua se abbiamo la presunzione che arrivano l'helicopter money e che noi per i prossimi due o tre mesi chiudiamo l'Italia, noi siamo dei pazzi, pazzi da legare e il fatto che lo dicano oggi non vuol dire che succederà, ma vuol dire che non ci stiamo costruendo un futuro nei prossimi mesi per poter riaprire questo paese e lì siamo morti e quando si muore è difficile video direttio. Come va?